ciao lattini bentornati su latte cartoni si bentornati con noi oggi facciamo un nuovo video curiosità su miu miu amiche vincenti allora vi raccomando appunto 11 curiosità di solito sarebbero 10 le curiosità si ma noi ne mettiamo 11 perché vogliamo differenziarci dagli altri ma si ci sta vai luca vai subito con la prima curiosità si la prima curiosità i cognomi di ryan kyle e mark ovvero shirogane akazaka e oiyama sono ispirati ai tre quartieri di tokyo appunto shirogane akazaka e oiyama quindi ci sono davvero ci sono davvero curiosità numero 2 in realtà strawberry si sarebbe dovuto chiamare momo si che significa rosa si anche questo che è giapponese mentre mina hoi che significa blu si e lori midori che significa verde quindi sono i colori giapponesi fantasia proprio eh curiosità numero 3 i nomi dei dei tre alieni quiche pie e tart sono ispirati a tre prodotti da forno che buono yam significa la quiche che è una specie di torta salata quindi non guiche o qui si scrive quiche è proprio la quiche vediamo che è la foto si la quiche che è una torta salata poi pie che è appunto il nome della torta in inglese e tart che è il nome inglese della costata carino si curiosità numero 4 4 sapevate che in realtà ci sarebbe dovuta essere anche una miu miu topo? si che coloro era? verde infatti si era poi scartata perchè era troppo simile ai colori di lori quindi è una torta povero tupino 5 il design delle armi delle tokyo miu miu sono stati ideati dalla takara per la vendita dei giocattoli curiosità numero 6 ok e dovete sapere che ancora prima di miu barry esiste una primissima miu si che si chiama appunto la gatta nera di tokyo si e nell'anime non abbiamo diciamo traccia di lei però mentre nel manga abbiamo una storia dedicata quindi un spin off si molto carino curiosità numero 7 esiste una miu miu esclusiva del videogioco e il suo nome è miu ringo e ringo compare anche in delle brevi short stories del manga curiosità numero 8 in realtà ci sarebbe dovuto essere anche un film di miu miu perchè sul sito ufficiale che è ormai chiuso da tanto tempo c'era appunto la sezione dedicata al film con tanto di logo miu miu the movie eh si un vero peccato eh si curiosità numero 9 miu miu fece così tanto successo da noi ai tempi che l'italia ha chiesto al giappone la produzione di nuove puntate di una nuova serie però purtroppo i giapponesi declinavano l'offerta curiosità numero 10 si e purtroppo è una censura perchè dovete sapere che in una puntata dove miu pam e miu mina combattono miu mina si dichiara miu pam e dicendo appunto che l'ama veramente eh si in italia peccato curiosità numero 11 dovete sapere chi è lo scelto del mio aqua road eh prodotto dalla Takaga e quando lo fate suonare il suono ricorda tantissimo la conchiglia durante la trasformazione delle mea 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 piacere sirene però? però le mea 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 sono uscite dopo le miu miu come mai? siamo giunti al termine amici eh si speriamo che il video vi sia piaciuto si e fatevi sapere nei commenti se questo video curiosità vi è piaciuto ma anche se e se volete anche altre serie di questo video esatto dateci dei spunti così poi noi creiamo il video per voi noi cerchiamo nuove informazioni e creiamo il video si iscrivetevi al canale se l'avete già fatto mettetevi tanti like mi piace mi raccomando siamo contenti e vi aspettiamo il prossimo video si e iscrivetevi anche ai nostri social twitter facebook e instagram a presto ciao ciao